Chiamiamo sul palco i mini-boss! Eccoli che si preparano in posizione! Facciamoglielo un altro applauso! Napoli! Mami! A mi mi gusta tu descendenza ancora! Cashetti! La mamma della mamma della mamma de la mamma della mamma de la mamma Grazie a tutti. 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 Allora, dicci un po', questo gruppo, questa coreografia, da quant'è che ballate insieme? Allora, l'anno scorso abbiamo cominciato, poi quest'anno ci sono aggiunti altri ballerini e quindi siamo cresciti sempre di più formando una famiglia, circa. Allora, la cosa bella è che loro stanno tutti girati verso di lei e la guardano così. Non interessa del pubblico, la guardano proprio con la visione. Fatevi vedere, fatevi vedere, fatevi vedere quanti girati. Allora, allora, chiediamo il parere a uno dei giudici. Sì, lo chiediamo, lo chiediamo. Paola Leste, cosa ne pensa di questa esibizione? Allora, allora, che cerco di questa esibizione? C'è, sì. Bellissima energia, presenza scenica, devo dire. belle belle espressive belle forti tutte, tutti quanti veramente belle grazie di questa energia Harrison pure vorrebbe dire qualcosa bravissimi chi ha la mente di questa colloquia? chi ha fatto la colloquia? Giulia! Giulia, sei richiesta sul palco ovviamente sarà una bomba questa persona perché si vede l'energia dei suoi allievi eccola, eccola avrei immaginato perché hanno portato, come ti chiami? Giulia complimenti per la torta in testa comunque hanno portato la tua energia sul palco vuol dire che questi ragazzi si divertono con te questo è importantissimo complimenti davvero voglio fare una cosa però c'è la piccolina proprio di fronte a te fatemi un po' di spazio fammi vedere tu twerking ancora boom 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 l'inizio twerking no, è ragaglia no, no la piccolina ah, ok è regga è regga donna Sì, vroom vroom! Sì, vroom vroom! No, poi c'è la ragazza di... Però, spiccato, perché è veramente piccola, io da qui sembrava che stava facendo twerking, e invece non ero. Complimenti per la torta di testa. Ok, bravi ragazzi! Bravi, fatevi un altro applauso, fatelo anche voi, quest'applauso! Grazie mille! Ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo, eh, mi raccomando! Un applauso ai mini boss! Grazie, saprete la convidata!